Polifemo, il fattaccio, è qui a Lizzano, provincia di Taranto, per una vicenda che ormai è arrivata anche alla ribalta nazionale, la storia di questo murales, un murales che almeno originariamente ha avuto una forte ideologizzazione, appunto, marxista, leninista, un murales realizzato su una cabina dell'Enel. Una grande polemica e ho al mio fianco Umberto Lanzo, già consigliere comunale e assessore comunale di Lizzano, nonché consigliere provinciale di Taranto. Allora, Lanzo, ricostruiamo questa vicenda e cosa ha da puntualizzare? Io seguo attentamente un po' quelle che sono le vicende che riguardano l'attacco alla nostra cultura che stanno avvenendo in questo paese in maniera meschina e in maniera vergognosa, in quanto c'è stato già un primo attacco al parroco, hanno cercato di farlo passare per un qualcosa che non era, come un attacco ai gay, mentre era solamente una preghiera, quella che stava attuando il parroco della chiesa di San Nicola, affinché non venisse approvata la legge sull'omotransfobia, la quale è una legge che mette in discussione il diritto di parola, un diritto sancito dalla Costituzione. Andiamo alla vicenda di oggi. Mi è stato comunicato, quando stavano facendo questo disegno, che si stava realizzando un disegno in cui c'erano 5 pugni alzati che identificavano immediatamente un comune marxista-leninista, perché sono i simboli di Leningrado. Mi sono immediatamente posto qui sul posto, ho bloccato l'artista chiedendo tutte le autorizzazioni riguardo al murales che stava effettuando. L'artista mi ha detto che gli era stato ordinato dal comune e poi, senza stare a fare troppo lunga, l'assessore Morelli, il vice sindaco Morelli e altri due consiglieri comunali hanno detto che loro avevano tutte le carte in regola, ma io comunque mi sono regato in casa e mi hanno fatto una denuncia di carattere penale. Dopodiché c'è stato un prosieguo per non portarla a lunga. Alla fine il disegno è stato cambiato, ma subdolamente l'artista e l'amministrazione comunale ha conservato il simbolo di Black Lives Matters e lì su quell'angolo c'è la scritta Black Lives Matters, un gruppo di anarchici che sta mettendo a soccuadro il mondo. Siccome io ritengo che noi dobbiamo difendere la nostra cultura e la nostra identità dagli attacchi subdoli che vengono attuati da coloro che, avendo nelle mani il potere momentaneo, cercano di insaurare una sorta di dittatura, identificandosi come coloro che ordinano e comandano in rappresentanza di tutta l'altra. Alcune puntualizzazioni. Questo è un lavoro evidentemente commissionato da Enel, però a questo punto anche Enel avrebbe dovuto così verificare l'oggetto di quanto viene rappresentato, perché non ci deve essere alcuna rappresentazione ideologica o ideologizzata, proprio perché se si deve rappresentare qualcosa deve essere qualcosa al di sopra delle parti per il bene e per il ristoro, diciamo così, per la comunità, un ristoro rappresentato dal godimento dell'opera artistica. Lei ha, come detto, presentato denuncia, ora penso che ci sia un'indagine in corso. Ho verificato, ho un po' di esperienza amministrativa per cui conosco le modalità con cui deve essere seguito un lavoro pubblico. Io ho fatto le foto dove l'artista stava lavorando senza nessun piano di sicurezza. Ovviamente è una cosa che sta dicendo lei, ha presentato questa denuncia, quindi è una sua responsabilità di quello che sta dichiarando, oltretutto è oggetto di una denuncia che lei ha fatto. Io mi sono regato in ufficio poi a chiedere qual era la parte dell'azienda Enel che aveva comunicato all'ufficio e tutti gli uffici in questione mi hanno risposto che non avevano avuto nessuna comunicazione da parte dell'Enel. Per attuare questi murales c'è un bando pubblico che insieme al Comune deve prevedere una scelta di temi che devono essere poi messi nel bando, alla quale devono partecipare degli artisti. Affinché succeda questo il Comune deve avere un regolamento per la scelta dei temi. Il Comune di Lizzano non ha nessun regolamento, non è stato fatto nessun bando, non c'è nessuna carta in regola, però non compete a me andare a fare le indagini perché io ho risposto denuncia ai carabinieri di Lizzano i quali hanno acquisito la documentazione e stanno facendo tutte le indagini. Specifico che il mio partito Forza Italia a livello provinciale attraverso l'ex sindaco Dario Magripò sta facendo una contestazione formale all'Enel chiedendo se lei era a conoscenza di questo murales il quale identifica Lizzano come un paese che si identificava nei Black Lives Matter. Oltretutto nel momento in cui non parlo di questo murales ma il precedente, quello che aveva i cinque pugni, c'è stato qualcuno che ha rappresentato un simbolo fallico come si vede nella immagine. Per carità, le opere d'arte non vanno sfregiate né tantomeno bisogna usare certe immagini volgari, però la risposta, la replica di questo Giga E, ma non so bene il nome, così si qualifica su Facebook, è stata davvero molto pesante perché parlare di fascisti appesi o quant'altro mi sembrano comunque... Mi perdoni, Nanzo, certamente dobbiamo condannare i regimi totalitari e quindi i regimi dittatoriali, tutti, sia di destra sia di sinistra. Ecco, un momento, Nanzo, però i toni di Ema Giga ci fanno pensare che quel murales avesse, come ha, almeno quello con i cinque pugni, una fortissima ideologizzazione che non sta bene realizzare in un'area pubblica. Se Ema Giga vuol fare qualcosa, avesse voluto fare qualcosa di ideologizzato, era libero di farlo, ma lo facesse, l'avesse fatto a casa sua. No, ma non è possibile che venga attuato da parte dell'Enel con la complicità di assessori del vice sindaco e di consiglieri comunali, i quali hanno affermato, ci sono le registrazioni, che le indicazioni date e tutta la documentazione era in regola, non c'è nessun documento all'interno del Comune di Lizzano. Perché l'Enel al massimo avrà fatto una scia, questa scia, non si ha conoscenza di questa scia, però per ciò che riguarda le indagini, torno a ripetere, e compete all'autorità giudiziaria, quello che io continuo ad affermare, quel pugno è un'offesa alla mia cultura e alla mia identità, perché quel pugno rappresenta Black Lives Matter, un gruppo di anarchici che ha come significato la vita dei nei rivali. C'è un altro gruppo, All Live Matters, il quale afferma che la vita di tutti vale, ma sono due estremismi che non mi rappresentano, in quanto ritengo che la mia cultura e la cultura della mia gente debba essere difesa. Subitualmente l'artista ha lasciato quel simbolo, subitualmente l'artista ha lasciato quel simbolo, io per evitare di essere dipinto come colui che cerca lo scontro, gli ho dato dei meriti che non aveva l'artista, in quanto ha comunque lasciato questo murales come simbolo di Black Lives Matter. Il partito, attraverso una contestazione formale, sta chiedendo all'Enne di cancellare il murales e di fare un nuovo murales, il quale, anche se il tema è quello della cultura tra i popoli, per la pace nel mondo, non ha assolutamente motivo di esistere in questo luogo, in quanto ci sono i giochi dei bambini, ne andava fatto così come è stato fatto in altre città, o un girotondo con i bambini di tutte le razze, oppure così come è stato fatto a Ravenna, a Parma, a Milano, a Bologna, dalla quale io ho ricevuto le foto della rigenerazione urbana fatta da l'Enne, ci sono dei fumetti oppure ci sono dei simboli di pace che non hanno nulla a che vedere con un simbolismo politico. Bene, e allora io abbiamo raccolto le dichiarazioni di Umberto Lanzo, a questo punto io giornalisticamente desidero, chiedo un contraddittorio con il sindaco di Lizzano, Antonietta Doria, con il vice sindaco Valerio Morelli, perché se voi ritenete che tutto sia stato e sia in regola, non c'è motivo di rifiutare un contraddittorio. Non c'è motivo perché cambiassero il murale, se c'era tutto in regola non c'era motivo perché cambiassero il murale, perché l'hanno cambiato significa che sapevano che stavano in difetto. E quindi se il murale si è stato cambiato bisogna capire, bisogna vedere bene come mai è stato realizzato, se ci fosse stata o meno un'autorizzazione e Lanzo dice di no. Non c'è neanche a conoscenza del disegno che è stato realizzato. Io credo che l'Enel, altrimenti l'Enel non l'avrebbe mai consentito. Bene, io invito ad aprire un dibattito, un confronto pubblico e aspettiamo anche e aspettiamo soprattutto le risposte dell'Enel.